Matteo Renzi incassa il sì della direzione del PD ma la minoranza non vota, passa all'unanimità ma senza il parere dei dissidenti interni, la proposta fatta dal premier segretario al partito. Modifiche all'Italicum dopo il referendum, una delegazione formata anche dalla minoranza per studiare i cambiamenti alla legge elettorale con le altre forze politiche. Non possiamo tenere fermo il paese per tenere unito il partito, aveva detto il capo del governo. Il no più deciso a Renzi arriva da Gianni Cuperlo, senza accordo sulla legge elettorale prima del referendum, voto no e mi dimetto da deputato.